sono lillo adesso sono vecchio sono lillo aspetta che mi avvicino un po ciao ragazzi ho fatto un intro un po da vecchio sono lillo ma comunque oggi non parleremo di calcio sono lillo basta dopo sono io che ripeto le cose sono lillo basta allora capo dei cani allora in ogni video di questo genere faccio video di calcio oggi non farò video di calcio allora perché ho fatto questa intro come vi stavo dicendo da vecchio perché siamo a 42 iscritti giuseppe la rosa tv channel official 43 ma forse io si alzerà vogli parlare tu un po allora vi dovete scrivere questo è lo sfogo no 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 sai perché non ci seguono? perché li facciamo arrabbiare? perché noi perché noi li diciamo iscrivetevi se no iscrivetevi 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 perché se no vengo a casa vostra e poi si arrabbiano e non si scrivono tu vuoi parlare dell'Italia? no 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 domani fa il compleanno la cata poi è venuto un altro gatto piccolo che non si vede stamattina non lo so ma comunque voglio dire abbiamo messo delle immagini anzi io ho messo delle immagini nel video lui non me lo faceva fare aspettate aspettate io mi sto mi sto innervosendo con lui non con voi perché lui io come ho detto nello short vi avevo promesso che il primo gennaio pubblicheremo i video e lui lui questo dietro di me che dice son lillo e invece non è lillo non me lo ha fatto caricare e quindi la colpa è sua quindi non arrabbiatevi con me però la colpa è sua auguri di buon anno ragazzi ma poi non era speriamo che non era vero abbiamo fatto uno short speriamo che sarà un anno di gioia felicità e io chiudo il video non si è sentito non si è sentita si è sentito non si è sentita se me lo can se cancello il video per colpa sua io li spacco la faccia appena finisco il video comunque non si carica detto fatto non si carica al video vabbè vuoi parlare dell'italia un po' allora la juve gioca cosi devi fare prima fai prima a fare così mamma mia che bomba guardate subito va bene non parliamo di queste cose è uscito ah si è uscito è uscito pure questo vabbè che questo ve l'ho fatto già vedere c'era no no c'era da prima è uscito il nuovo album calciatori panini 2021 2022 finalmente e tanto tempo va abbiamo fatto la pubblicità e questa è una pubblicità abbiamo fatto un tiktok che avevamo detto ancora non è uscito a dicembre è uscito ragazzi e avevamo me l'ha dato a babbo natale per regalo avevamo fatto in quello in quel tiktok avevamo fatto non è uscito non è uscito e avevamo comprato le anteprima di quest'album qua e guardate abbiamo sepastino luperto è è molto bello andiamo alla pagina dell'inter della juve per l'interist ma dove sono per cosa quelle anteprima ah l'anteprima no secondo cassetto allora dove è ecco qua juventus ecco qua allora visto che non ci sono non c'è tanto spazio quest'anno l'hanno fatto pure dove c'è l'arbit il mister e guardate della juve non ce l'abbiamo non ci sono uscite i fosi interisti ma anche interisti allora io aspetta vi faccio vedere vabbè fai il video tu che io non entro vi faccio vedere le figurine sono orizzontali come allora guardate non ce ne manca com'è guardate il dietro qui ottimo da zona di serie A ecco le anteprime va bene faremo un altro video di questo da Mario Giuseppe TV queste sono le anteprime eccole questa avevamo 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 Nicolaz Mkhitaryan Mkhitaryan Audero Kulusevski Skriniar e però oggi in quest'album non ce l'abbiamo Skriniar e Romagnoli poi abbiamo Avraham Aramu Romagnoli e Skriniar e poi vi voglio far vedere pure l'altro album vabbè ciao ragazzi che ci sono tutte le storie dei giocatori c'è la storia di Kulusevski poi è bello perché all'inizio ci sono le coppe come sempre e poi ci abbiamo voglio vedere quante più avete capito la squadra così dei giocatori abbiamo proprio chiesa la faccia in chiesa ragazzi ce la farei in un prossimo video dammi a Giuseppe di Wout mi ha schiacciato il piede ciao